Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B e come sempre partiamo dall'immagine del Sateto, un'immagine che ci mostra in Italia praticamente senza nuvole o quasi, solo qualche velatura, solo qualche foschia, per il resto sole, temperature sempre molto molto miti, punte fino anche a 25 gradi all'ombra in pianura padane sul versante tirrenico. E tra l'altro domani si replica, ma attenzione a quello che accadrà nel weekend di Pasqua, le cose cambiano, sabato tra pomeriggio e sera arrivano degli acquazioni e dei temporali, partono dalle regioni di nord-est e poi si estenderanno anche a quelle di nord-ovest e soprattutto all'Italia centrale versante adriatico con fenomeni localmente anche intensi e questi temporali porteranno aria più freddina. Quest'aria fredda poi domenica raggiunge il sud Italia, quindi domenica con mal tempo al sud, soprattutto nella prima parte del giorno, tornano invece ampie zone di sereno al centro nord ma a quel punto con un po' di vento e temperature decisamente più contenute. Poi la Pasquetta sarà bella in tutta Italia, però appunto con temperature frizzantine a fine giornata, però attenzione, nuovo peggioramento e martedì arrivano piogge diffuse al nord. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose durante questo lungo weekend di Pasqua, scaricate l'app di Trebi Meteo.